Muore operaio di 51 anni a massa marittima cadendo dal tetto. Continua la strage delle morti bianche. In una mattina di questa torrida estate un operaio di 51 anni di origine tunisine è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando in via 20 Settembre a massa marittima su un palazzo del centro storico. Immediati sono arrivati i soccorsi ma nonostante i tentativi di rianimazione per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La vittima, operaio di una ditta di Grosseto, stava ultimando i lavori sul tetto della palazzina a due piani quando è caduto nel vuoto e dopo un volo di 10 metri ha sbattuto violentemente a terra. I soccorsi sono stati immediati e per lunghi minuti il personale del 118 ha tentato la rianimazione ma le sue condizioni sono apparse subito disperate e non è riuscito a superare i traumi causati dalla rovinosa caduta. Oltre ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi sono giunti sul luogo dell'incidente personale della ASL, due ambulanze della misericordia di massa marittima e della pubblica assistenza di Scarlino insieme all'elicottero Pegaso. Cordoglio per l'accaduto è stato espresso nei confronti della famiglia dell'operaio dal governatore Eugenio Gianni In un paese civile ha detto non si può morire di lavoro, lo diciamo da anni e la strada da battere non può che essere quella imboccata. Gianni ha poi ricordato come la giunta regionale abbia approvato l'assunzione a tempo determinato per tre anni di 25 operatori e 8 dirigenti chiamati a lavorare sul fronte della prevenzione e della sicurezza sul lavoro. Grazie a tutti.